Ultimo giorno di sfida per decretare i vincitori della terza edizione del torneo tre materie Iron Students. È terminata oggi infatti, mercoledì 21 aprile, la gara che ha visto coinvolti gli studenti eccellenti degli indirizzi tecnici dell'Isis Valdarno, economico e tecnologico. Al termine del primo quadrimestre, in ogni classe quarta dei due indirizzi, sono individuati due alunni con il voto di media assoluto più alto, considerando tutte le materie. I due alunni scelti, o capitani, hanno gareggiato in rappresentanza della propria classe. 16 gli studenti impegnati in due turni iniziati lo scorso lunedì. È la terza edizione del torneo, un'invenzione del nostro istituto, è un metodo, anzi un modo giocoso ma in realtà molto serio per premiare le eccellenze del nostro istituto. I migliori studenti delle quarte in questa edizione si sono confrontati in un format online, ciascuno doveva sviluppare una presentazione, le coppie degli studenti dovevano sviluppare una presentazione in inglese attraverso powerpoint o prezzi o slide e discutere del 600, Leibniz, Cartesio e Galileo Galilei. Una prova piuttosto difficile che i ragazzi stanno superando molto molto bene. La filosofia si sposa con la matematica, con l'inglese, con l'italiano, con la storia, d'altronde qui abbiamo raccolto i voti migliori delle quarte, sono ragazzi molto grandi, ben strutturati che stanno competendo in una gara che davvero è Iron Student, cioè una prova all'ultimo sopravvissuto. Ai primi tre classificati saranno assegnate tre borse di studio per un valore complessivo di 600 euro, un premio concreto quindi per i meriti scolastici degli studenti degli indirizzi tecnici dell'Isis Valdarno. La scuola ha messo in palio delle borse di studio, un impegno economico anche abbastanza elevato perché i vincitori vinceranno 600 euro che insomma per dei ragazzi di 17 anni è comunque una cifra importante.